buongiorno amici ben ritrovati oggi voglio lanciare un messaggio per tutti coloro che in questo momento non stanno bene che non stanno bene a livello diciamo mentale o che non stanno bene a livello fisico che comunque hanno questa sensazione di malessere il mio messaggio per voi è evviva meno male che state male no sto scherzando sto scherzando ma dico anche la verità nel senso che sono convinta che questo malessere sia positivo per voi perché sono convinta di questo perché io stessa mi rendo conto che ogni volta che sto male è per dire a me stessa guarda basta finiscila con quella cosa perché puoi avere di meglio perché puoi stare meglio quindi cambia il tuo atteggiamento cambia il tuo modo di vedere le cose e soprattutto di comportarti perché puoi stare meglio quindi amici ringraziate per questo momento della vostra vita anche se potrà essere drammatico tragico io spero di no però qualsiasi cosa vi sta succedendo che vi crea malessere guardatela da un punto di vista benevolo se è una malattia vi consiglio di iniziare a vederla con occhi diversi la psicosomatica può essere uno strumento per esempio io utilizzo il libro della metà medicina per interpretare i miei sintomi e mi aiuta tantissimo perché questo fa sì che io ne tragga un insegnamento da ogni mio sintomo se invece il vostro è un disagio di tipo emozionale il mio consiglio è di iniziare a praticare la meditazione perché a mio avviso da praticante di meditazione da oltre 20 anni e credo che sia lo strumento più potente per fare pace dentro di voi e per creare il contrario del caos e del malessere quindi con la meditazione riuscite finalmente a dare spazio alla parte spirituale di voi a dare voce alla parte spirituale all'anima e una volta che avete recuperato questo dialogo interiore con la vostra anima la vita prenderà una svolta diversa sarà illuminata dalla saggezza dalla semplicità dall'innocenza dunque amici mi raccomando qualsiasi cosa state vivendo cercate ricercate iniziate a leggere libri e fate corsi fate tutto quello che sentite che vi possa aiutare chiedete aiuto perché proprio in questo momento difficile che darete un diciamo un turbo alla vostra vita verso la vita meravigliosa che meritate di vivere quindi vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi buona giornata e buona fortuna a tutti un bacio dall'orella